Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio... ...è un eroe. Io so Chris, sono un amico di Valerio. Non importa chi sei. Ad oggi amici per sempre. C'è bisogno della famiglia, non dello psicologo. Non ce l'ho mai avuto un amico come te. Ma perché non me lo pensi? Che cosa? Che va ora. Amate il cinema italiano? Allora... 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 Allora...